Il progetto Helios è il nuovo sistema di formazione universitaria su piattaforma e-learning, promosso dall'Università di Cagliari nei corsi di laurea di amministrazione e organizzazione, beni culturali e spettacolo, economia e gestione aziendale, ingegneria elettrica ed elettronica. Il progetto, finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e gestito da Unitel Cagliari è incentrato sull'adozione di un metodo di insegnamento online attraverso un sistema integrato di strumenti e-learning quali video-lezioni, forum, chat, auli virtuali. Nessuna differenza fra lo studente iscritto al canale tradizionale e lo studente e-learning. I programmi di studio, gli esami, i docenti e il titolo di studio rilasciato non cambiano. Helios, una laurea vera, che segue le tue passioni, la tua quotidianità, i tuoi progressi.